Ho piacere di leggervi questo articolo di Dacia Maraini, articolo apparso sul set del Corriere della Sera di venerdì 20 marzo e dice così Il coronavirus ha frenato un tempo che correva sempre più veloce verso l'ignoto. Un precipizio? Forse. C'era qualcosa di insensato nel nostro girare forse nato su noi stessi. Non voglio fare l'elogio del virus che fa paura anche a me che me ne sto chiuso in casa e sono pure anziana, quindi da far fuori allegramente. A questo proposito io credo che si sia sbagliato a insistere sulla falce che taglia la testa, anzi i polmoni, agli anziani. I giovani si sono sentiti indenni e hanno pensato di potersi infischiare delle regole e delle raccomandazioni. Lasciamo che i vecchi muoiano, il futuro è nostro e ce lo godiamo. Mi viene in mente quella piccola leggenda attribuita a Brecht. Prima di tutto vennero a prendere gli zingheri e fui contento. Poi vennero a prendere gli ebrei e state zitto perché mi stavano antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessuali e fui sollevato perché non li approvavo. Poi vennero a prendere i comunisti e io non dissi niente perché non ero un comunista. Un giorno vennero a prendere me e non c'era rimasto nessuno a protestare. Di fronte a un evento doloroso come una pandemia che si può fare, la prima cosa è guardarlo in faccia. Scappare non serve a niente, è importante capire di che si tratta e quali sono le sue capacità di nuocere, leggendo, informandosi, affidandosi agli esperti. Quindi rimboccarsi le maniche e decidere il da farsi. Non è facile, lo so, soprattutto in un paese così anarchico, portato all'individualismo, all'anarchismo, alle risse tra fratelli, alla critica, fini a se stessa. Ma non ci sono alternative. Il governo, penso, abbia preso delle buone decisioni, cercando di fermare il dilagare di un virus particolarmente contagioso. State chiusi in casa, raccomanda, e già si sentono le grida di protesta. Ma stare chiusi in casa non è una tragedia, è un'occasione per riflettere, leggere, ascoltare musica, parlare con i propri cari. Ma scusi, perché leggere è così importante? Me l'hanno chiesto tante volte gli studenti a scuola. Beh, prima di tutto perché ti permette di viaggiare nel tempo e nello spazio. Basta un battito di ciglia, che si trasforma in un battito d'ali e ti porta lontano. Mi viene in mente un bellissimo racconto di Montale. Vi si narra di un uomo per l'appunto che se ne sta chiuso in casa, perché sta sfuggendo ai nazisti. La finestra si apre e un uccello gli dice «Vieni, andiamo in Inghilterra». Lui è perplesso, ma monta sul davanzale e scopre che in effetti basta allargare le braccia per volare. E così, vola, vola, si trova a Londra, nella casa di un amico che, a lui affamato, offre un pollo arrosto. Ecco, la lettura ha questa capacità di farci volare fuori dalla finestra e portarci in strane case dove si mangia quando si soffre la fame o dove si parla di libertà quando la libertà viene negata. Chi legge un libro lo riscrive e leggendo mette in moto l'immaginazione che è il motore più potente del nostro cervello. Solo l'immaginazione ci può far capire la sofferenza altrui. Solo l'immaginazione ci permette di affrontare i pericoli di un futuro guerresco. Solo l'immaginazione ci può far sentire la bellezza del pensiero e dell'amore. Per questo, leggere è formativo. E a questo punto bisogna dire che spesso facciamo confusione tra informazione e formazione. L'informazione è una questione di quantità. Il nostro modo di informarci si è moltiplicato all'infinito attraverso le straordinarie capacità della rete. Ma la formazione è un'altra cosa. La formazione non conta sulla quantità, ma sulla qualità. Non c'è strumento agile e veloce che possa darti una formazione sufficiente. La formazione si basa sulla consapevolezza e la consapevolezza si basa sulla complessità. Il mondo è multiforme, contraddittorio, difficile da interpretare e i dubbi sono sempre tanti. Per questo, ogni semplificazione funziona da ghigliottina della realtà. Chi semplifica diventa fanatico, intollerante, fazioso e generalmente vuole imporre la sua semplificazione agli altri. A costo di uccidere chi non ci sta, innocente o colpevole, non importa. A proposito della pandemia, ho letto molte citazioni da Manzoni e da Camus. Nessuno ha ricordato La morte a Venezia di Thomas Mann, romanzo affascinante in cui il sentore della morte si mescola alle delizie di una spiaggia morbida e seducente, la vista dei corpi che si disfano alla contemplazione di un meraviglioso corpo che si affaccia alla vita. Il colera stava invadendo la città, ma nessuno ci faceva caso. La paura di un danno generale, le grosse perdite che in caso di panico e di discredito minacciavano di colpire l'esposizione per gli alberghi, i negozi, tutta la complessa industria turistica, quella paura fu più forte dell'amore per la verità e il rispetto per le convenzioni internazionali e persuase l'autorità a perseverare ostinatamente nella sua politica del silenzio e delle smentite. «Bisogna tacere», dice una voce nell'orecchio di Aschenbach. In lui tace. «La coscienza della sua complicità, della sua connivenza, lo inebriava come piccole quantità di vino inebriano un cervello già stanco. La visione della città colpita dal flagello e abbandonata a se stessa, confusamente bagaggiata dalla sua mente, accendeva in lui speranze inconcepibili che disobbedivano alla ragione ed erano mostruosamente dolci. Ecco, la mostruosa dolcezza dell'immunità seduce molte menti leggere, innamorate della propria libertà, anche quando danneggia quella degli altri. Non credo che ci sia alternativa all'ascolto dei medici. Restare a casa vuol dire guadagnare un tempo in più che ci permette di leggere un bel libro che con un battito di avi ci porta lontano, col tempo dinamico dell'immaginazione, in un paesaggio sconosciuto e tutto da percorrere. Dacia Maraini